Il Catania prova a riprendere la rincorsa, quella definitiva, poiché le prossime tre gare saranno, dolente o nolente, le gare della verità. Tre avversari, forse quelli tecnicamente più attrezzati, diranno quanto vale la squadra di Sannino, senza se e senza ma, senza scuse insomma e senza attenuanti fra indisponibili e squalificati. Se il Catania possiede un'anima deve dimostrarlo ora perché dopo sarà troppo tardi, nel giro di 15 giorni capiremo quanto vale la squadra rosso-azzurra in chiave promozione, Bologna in casa, Livorno in trasferta e Brescia ancora in casa. Serve una spinta emotiva forte, serve un'anima vera, servono cuore e gambe, anche con la voglia e l'entusiasmo dei giovani, come si intuisce dalle parole del siracusano Tino Parisi, 19 anni, forgiato da Pino Rigoli all'Akragas. Io comunque ancora sono molto in contatto con giocatori o dirigenti dell'Akragas perché comunque sono stati due anni importanti per il mio vissuto, per la mia carriera. Sicilia è quasi una seconda casa perché mi hanno accolto a braccio aperto, io venivo dagli allievi, abbiamo vinto il campionato di eccellenza e poi un ottimo campionato in Serie D rischiando di vincerlo. Quindi per me è una seconda casa. Essendo siciliano e giocare per una squadra siciliana è una spinta in più, anche perché comunque non ci sono moltissimi giovani, soprattutto in Sicilia, che riescono ad uscire nel calcio che conta. Quindi per me è un motivo di orgoglio in più, soprattutto per una società come il Catania. Sulla delicata partita con Bologna, il giovane Parisi sembra già avere le idee chiare. È una squadra che è stata costruita per vincere il campionato come il Bologna, ha tutti elementi che possono metterti in difficoltà in qualunque momento. Quindi bisogna stare attenti su tutte le situazioni di gioco e non su un giocatore in particolare. Il match Catania-Bologna in programma sabato alle 15 allo Stadio Massimino sarà diretto da Pairetto di Nichelino, mentre Virtus Solanciano-Trapani, sempre sabato alle 15, sarà arbitrata da Nasca di Bari.